Si vota per la città metropolitana, non saranno i cittadini a votare, ma i sindaci e i consiglieri dei 42 comuni dell'area fiorentina. Che cosa accadrà poi nei prossimi mesi? Nei prossimi mesi ci sarà un nuovo ente, che è questa appunto la città metropolitana, che sarà composta da un'assemblea che è già presente, che mette insieme tutti i sindaci della provincia di Firenze, che si chiama città metropolitana, e sono 42. Lo ricordiamo che sederanno in questo Consiglio a titolo gratuito, non ci saranno spese in più per i cittadini. Poi c'è un luogo vero dove sostanzialmente non verranno ratificati, ma partiranno le decisioni politiche fondamentali che riguardano un'area così importante, che è invece il Consiglio metropolitano. Il Consiglio metropolitano è composto da 18 membri, su 5 liste, il Partito Democratico ha la sua lista, abbiamo un candidato a 17 persone, vogliamo rappresentare la maggioranza di quel Consiglio, che avrà un Presidente che è già stabilito per legge, che è il Sindaco di Firenze, D'Arenanderra. Poi ci saranno altre 4 liste, ce n'è una che mette insieme all'area della sinistra, Selle e Rifondazione, c'è una lista civica che vedendo i candidati mi sembra molto spostata a destra, poi c'è una lista di Forza Italia e poi c'è una lista del Movimento 5 Stelle. Voteranno i consiglieri comunali, quindi si presume che ogni consigliere comunale voti il partito da cui proviene, quindi è un'elezione strana. Lo Statuto dovrà segnare cosa si farà e come si definirà il governo locale.